Sì, mi sembra che la gente non sia minimamente interessata alla parapsicologia e in genere alla ricerca spirituale. Commento Andrew Greley e William McRady, due sociologi americani, nel lontano 1937 prepararono alcuni questionari per sapere quanti americani credevano nel paranormale. Ebbene, più di un quinto della popolazione americana asserì di avere frequenti esperienze paranormali. Questo significa che 30 milioni di persone avevano spesso esperienze paranormali. E' da notare che la sensitività delle persone contribuisce in maniera massiccia all'incidenza dei fenomeni psì. Grazie. 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 Grazie.